Allora, pasta di mezzanotte. Cos'è la pasta di mezzanotte? La pasta che si fa a mezzanotte, la pasta che all'estate si fa a mezzanotte e la sera, si fa alla notte. Allora, la pasta di mezzanotte non è nient'altro che un aglio e olio, soltanto io non la voglio chiamare così, perché i puristi mi si mancano e ci hanno pure ragione, perché io metto una variante, invece del presemolo metto il pecorino. E adesso vi faccio vedere come si fa. Di mezzanotte abbiamo bisogno di un pochino d'olio. Io ho del peperoncino secco, ma voi potete usare quello fresco. Poi abbiamo due bei spicchi d'aglio che io ho già scamiciato e li lasciamo qui, anzi li mettiamo qui, perché adesso li tagliamo a fettine. E abbiamo bisogno della pasta, circa saranno 150 grammi. Ok? Allora, intanto per cominciare facciamo i nostri spicchi di taglio, togliamo prima l'anima, tagliamo così, e così, come seccavo un dito, e togliamo l'anima. Guarda che animone che c'è questo. Togliamo l'anima perché non a tutti è bella indigesta. per non rischiare. E poi li affettiamo piano piano, così, fini fini. Ok? Io un'altra bottarella gliela darei, così. Ma poco, eh? Non tanto, perché sennò dopo l'aglio non si sente, anche perché questo è senza anima, quindi quando sta nell'olio che ha soffritto non si sente tanto, eh? Cerchiamo sempre di tagliare, di togliere la nostra anima, mi raccomando sempre alle dita, che farà tanto è grossa questa, è uguale, stesso discorso, affettiamo, piano piano, così. Ok, da voilà, ripassiamo un pochino, diciamo anche questo altro pezzettino, tolto l'anima qua? È rimasto un pezzetto, eccolo qui, così. Iniziamo da questa parte, che bella. Così. Occhio sempre alle titine, eh? Così, siamo qua. Togliamo sempre l'anima, così, e la mettiamo qua, via. Ok, continuiamo a tagliare questo, affettiamo, 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 ok. Ora gli diamo un'altra tagliatina, così, così. O poco, eh? Non serve così. Ok, basta così. E ce lo mettiamo qui, da parte. Ok? Adesso prendiamo due o tre. Questi non pizzicano tanto, eh? Quindi mettiamone anche quattro. Non hanno un grande... Ve l'ho detto, se voi avete il peperoncino fresco, è meglio, eh? Questo lo tagliamo così. Uno, due, tre, e quattro. Ve l'ho detto, questo non vi preoccupate, non è tanto, eh? Non ha... non ha un grande... una grande piccantezza. Ok. Ci siamo. Ok. Prima di andare a fare la pasta, oggi è la festa della mamma e volevo fare una cura a tutte le mamme e soprattutto alla mia. Ciao mamma. Allora, abbiamo già buttato la nostra pasta. Adesso padella calda, olio. Beh, olio ce n'è un bel po', eh? Aglio e olio. A posto così. Mettiamo il nostro, oppela, peperoncino e aglio. Così. E facciamo soffriggere un pochino. Non tanto, eh? Pochino, pochino. La nostra pasta già l'ho buttata e sta andando. Ok. Io adesso spengo il fuoco con l'aglio perché se no dopo si brucia e lo vado a fermare la cottura con un goccino d'acqua. Ok? Sentite come frizzica. Facciamo cuocere la nostra pasta. Tanto il gas è spento, eh? Mamma mia, sentite il colorino. Già sta arrivando l'odorino, quello buono. La pasta non deve essere cotta, eh? Deve arrivare a metà cottura. Poi la facciamo cuocere qui dentro, eh? La facciamo risottata. E ancora un pochino, eh? Intanto il nostro aglio e peperoncino sta andando. Abbiamo spento il fuoco e messo un goccino d'acqua per fermare la cottura. Se no si bruciacchiava. Dopo il sapore di bruciacchiato non è proprio buono, buono, buono. Ok? Allora che facciamo adesso? Proviamo a mettere la pasta. Sì, già ce la possiamo mettere, voglia? Allora, prendiamo la nostra pasta. Così. La scoliamo direttamente nella padella, eh? Così. Ok, così. C'è altra? No, non c'è più, è finita. Spendiamo il fuoco e accendiamo questo. Ok. Così. Facciamo andare un pochino. Eh, questa è una bellissima pasta di mezzanotte. Ve l'ho detto, non la diamo aglio olio perché se no me linciano. Acqua di cottura. Così. E facciamo scaricare tutto l'amido nella pasta nella padella. Così. Guardate, è semplicissima questa pasta, eh? Proprio semplice, semplice, semplice. E viene buonissima. Ci vuole un attimo per cocerla. Un attimo per farla. Ecco perché si chiama pasta a mezzanotte, perché ci vuole un attimo. Mezzanotte uno c'ha fame. Due minuti e la pasta è pronta. Oppela, guardate, guardate che ho fatto. Ci sono stato dappertutto. Che spettacolo. C'era troppa acqua. Ok. Diamo una mezza pulitina. Se no dopo me linciano per davvero. Così. Mezza pulitina. Però in cucina queste cose purtroppo cambiano, eh? E a me mi è capitata. A me mi è capita un po' spesso. Così. Giratela, giratela. In modo che l'amido esca fuori dalla pasta. Potete immaginare che odore che c'è stato a queste parti. Ok. Così. Vedete che sta rilasciando tutto l'amido? Vedete quel biancore? E' la specie di cremina. E poi in teoria è bella cremosa, eh? E' proprio una bella cremina. Così. Guardate un po' che bella. Guardate un po' che cremina che sta venendo. Fantastica. Lasciamo andare un pochino. Se serve aggiungete sempre un po' l'acqua di cottura, eh? Ma ancora ce n'è abbastanza. date un po' che cremina che sta uscendo. Aglio, olio e peperoncino. Bellissima. Bellissima, fantastica. la variante di quelle buone, 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 buone. Una variante fantastica. A me il presemolo non piace, ecco perché è uscito fuori questa variante, eh? Allora, qui ci vuole una cosa adesso, pecorino proprio a sentimento, pecorino a sentimento, più cerementi è più buona, proprio pecorino come se piovesse. Vai col pecorino, vai col pecorino, metti il pecorino, vai col pecorino. Io ce lo metto quasi tutto perché a me ne manda al manicomio. Pecorino io lo amo, ok? Questa non è che è buona questa, è una cosa assurda, non sa nemmeno come definirla. È buonissima ragazzi, buonissima, buonissima, buonissima. Date un po', date un po', che spettacolo e che profumo che sta arrivando ragazzi, profumino assurdo. Andiamo a impiantare, va? Ed ecco la nostra pasta di mezzanotte, in una e mezzanotte però se la mangiamo uguale perché è buona, ok? Impliantiamo, va? Impliantiamo la nostra pasta, eccoci qua, così. Ci ha un bel nido, va? Che con i spaghetti e il nido riesce spettacolare. Oppela, eh? Fanno parlo? Ok, impiattiamo il nostro nido, così. Dammi che bella, che è sta pasta. Così. Mettiamo un altro pochino. Voilà. Fantastica, fantastica, fantastica. Spostiamo tutto qui. Mettiamo un altro po' di pecorino sopra. Così. Sporchiamo un po' pure il piatto. Così. E poi, per non saperne leggerne e scrivere, mettiamo pure un po' di pepe. Così. Così. Viene bella piccantina. Come piace a me. Guardate un po'. Spettacolo, eh? Eccoci qua. Spaghetti di mezzanotte. Non è mezzanotte, ma non fa niente. Va bene così. Ciao, buon appetito. Ciao, buon appetito.